Siamo con Filippo Roma delle Iene, a Olioliva, un blitz sorpresa per beccare il Vice Ministro dell'Agricoltura, Politica Agricole, Andrea Odivero. Perché in quanto da tutto a fare? Perché non posso esplicitarlo perché il servizio è ancora in itinere, ancora in corso d'opera e se diciamo troppo le persone che ancora stiamo cercando potrebbero essere avvantaggiate sapendo che stiamo cercando. Comunque una questione che riguarda il Jobs Act, una questione che riguarda il lavoro, in particolare una vicenda accaduta nel suo gruppo al Senato, c'è un gruppo dove partecipare. Hai moralizzato dunque in qualche modo? Non moralizzato, però devo dire la verità che è raro trovare dei politici abbastanza disponibili a fermarsi e a parlare, quindi se non altro chapeau per la sua disponibilità nel fermarsi e a fare due ragionamenti sul tema di interesse pubblico, cosa che accade raramente con gli altri politici. Dunque il servizio quando andrà in onda? Bravo, questa è una domanda, dobbiamo ancora finirlo. Diciamo che se tutto va bene, non il prossimo lunedì ma quello successivo. Ok, grazie.